Si ritrova con alcuni amici in vacanza a cenare in un ristorante della zona, ma termina la sua serata litigando con il proprietario del locale. Protagonista un turista napoletano che odloggia Marina di Camerota. È stata una serata piuttosto violenta quella che ha vissuto ieri sera il proprietario del ristorante pizzeria Da Romeo, situato sul porto di Marina di Camerota. Secondo la ricostruzione dei presenti e dei carabinieri della locale stazione, il turista avrebbe prenotato un tavolo telefonicamente. Arrivato al ristorante insieme ad altre persone cambia qualcosa, gli accordi tra il cameriere e il cliente cambiano. Forse il turista non andava bene nella posizione del tavolo oppure probabilmente c'era da aspettare qualche minuto in più. Fatto sta che è nata una discussione che è presto sfociata in lite. Dalle parole il turista di Napoli è passato presso ai fatti, ha cominciato a spingere il proprietario del locale. I clienti che stavano mangiando sono stati costretti ad allontanarsi per non rischiare di rimanere coinvolti nella lite. Dopo pochi minuti sono arrivati i carabinieri della stazione di Marina di Camerota agli ordini del luogotenente Massimo Di Franco. I militari hanno riportato tutti alla calma nel proprietario e nel turista. Hanno deciso di sporgere querela. Il fatti è accaduto a pochi metri dove qualche sera fa quattro persone, sempre di Napoli, hanno aggredito un parcheggiatore del posto, reo di non aver fatto parcheggiare l'auto, nel posto riservato ai disabili. Per il figlio del titolare del ristorante ieri sera, la serata si è conclusa con un brutto colpo in un occhio.